Mika Wagner Hai appena conquistato la tua ennesima finale al Sam Volley Ormai nemmeno la sabbia calda ti dà più fastidio Sei di casa qui Sì, sì, è sempre stato un divertimento per me fare 4x4 Ringrazio che ci riesco ancora dopo tanti anni come giocatrice Sono pieno di gratitudine, solo questo Sappiamo che l'età di una signora non si chiede Ma chi segue il volley sa che tu calchi Insomma, questi palcoscenici da tantissimi anni Un segreto per rimanere così in forma qual è? La felicità, la serenità Non c'è null'altro Mi ricerca sempre di stare tranquillo, serena E godere tutte le cose piccole che dà la vita Questo ultimamente sto imparando Con lezioni di vita dure, però comunque vale la pena Un saluto a chi vuoi tu? Saluto a tutti i miei amici, la mia famiglia Saluto a tutte le mie famiglie adottate a San Marino Barbara, Michele, tutti i miei ragazzi che alleno Che per me sono diventate famiglia Quindi saluto a tutti loro Grazie Milena Boteva, una finale sfumata per veramente pochissimi punti Sarebbe stata l'ennesima per te che sei una delle veterari di questo torneo Che cosa ti affascina del Sam Volley? Spervamo di fare di più Ci eravamo allenati per parecchio tempo Veramente Urbino ci ha messo in difficoltà Molto alla fine Perché poi come sono stati parziali Al primo set avevamo noi il vantaggio Dopo come se abbiamo mollato un po' Ci siamo fermati a giocare Comunque bravi loro Non posso augurarli che un grande bocca al lupo per la finale Che cosa ti piace di più del giocare sulla sabbia? No, mi piace tutto Ormai sono come hai detto tu la veterana Mi piace perché comunque non è solo un lavoro Ma anche un divertimento Che sta in mezzo alla gente Poi tutti quelli che vengono sulle spalte a vederci È veramente un bel spettacolo da seguire Un saluto a chi vuoi tu? Un saluto alla mia famiglia Che mi guarderà oggi Magari ho indifferita in tv Un grande bacio a tutti i miei amici E a tutti i tifosi che continuano a tifare E ad essere numerosi Grazie Grazie a voi